Salve a tutti, sono Vittorio e sono un neo laureato in biotecnologie mediche alla Federico II di Napoli. Ho appena seguito il corso Missione CRA, versione Extended di Milano e appena ho saputo di questo corso ho cercato di informarmi quanto prima e quanto meglio possibile anche. E per fortuna alcuni colleghi della Federico II avevano già seguito il corso nelle edizioni precedenti alla mia e oggi queste persone lavorano tutte già nell'ambito della ricerca clinica. Io sono molto soddisfatto da questo corso, anzi ad essere sincero credo che questo corso mi abbia dato molto di più di quanto mi aspettassi all'inizio perché non mi ha fornito soltanto le basi e le argomentazioni per farmi entrare nell'ottica della ricerca clinica, ma mi ha dato tutti quegli strumenti utili per potermi affacciare al mondo del lavoro con convinzione e con molta più consapevolezza di me stesso e di conseguenza anche con molta più serenità, ma non soltanto nel mondo della ricerca clinica, ma in qualunque ambito. E per questo mi sento di ringraziare in primis colui che ci mette la faccia, che è Stefano, che è una persona eccellente e una persona veramente eccezionale in gamba e soprattutto è molto disponibile e non soltanto prima e durante il corso, ma anche dopo e questa non è una cosa scontata. Per cui se dovessi consigliare questo corso, sì, lo consiglierei assolutamente, ma non soltanto a coloro che vogliono intraprendere questo percorso, cioè quello della ricerca clinica, ma a tutti i colleghi, neolaureati o non, laureati in materie scientifiche, che non hanno ancora intrafreso la loro strada e io vi consiglio di partecipare a questo corso perché sono sicuro e di questo ne assumo le responsabilità, che dopo questo corso vi sentirete pronti per affrontare qualsiasi tipologia di lavoro in qualsiasi ambito. Ciao a tutti e in bocca al lupo per qualsiasi cosa.